Ciao a tutti, fregatene del giudizio degli altri. Prima di affrontare questo tema, iscritti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, incontrerai sempre delle persone che avranno qualcosa da dire su di te, che giudicheranno a destra e a manca te e il tuo comportamento, il tuo modo di agire, il modo di rapportarsi verso la vita. Ci sono persone che si arrogano il diritto, che si sentono il diritto di mettere naso, di mettere becco, diciamo così, sul nostro stile di vita, sulle nostre scelte, le nostre azioni, su quello che facciamo, se preferiamo la carriera o la famiglia. Perché non ci siamo sposati, oppure perché ci siamo sposati proprio con quella persona lì. Perché abbiamo agito o non agito in un determinato modo. Solo le nostre decisioni, diciamo, solo se le nostre decisioni coinvolgono altre persone, dobbiamo in qualche modo sentire l'opinione o chiedere alle altre persone, altrimenti dobbiamo fregarci, assolutamente agire e decidere come vogliamo noi, senza avere nessun timore, nessuna paura. Chiunque sia a giudicarci, siano i genitori, siano, diciamo, gli amici, e le persone che ti giudicano esprimono soltanto quello che hanno dentro loro. Le emozioni, diciamo, condizionano sia chi agisce, sia chi è da spettatore. E quindi noi dobbiamo, diciamo, riflettere sul fatto che non abbiamo nulla da giustificare agli altri. Giustificarsi o cercare di trovare, diciamo, o cercare di dare una spiegazione ai nostri comportamenti non ha senso. Ma anche nelle relazioni sentimentali effettive possiamo chiedere spiegazione al nostro partner, sicuramente se otteniamo, se vediamo che è un comportamento che non ci piace, ma poi, diciamo, chiedere spiegazioni sul perché uno si comporta in un certo modo è una cosa. Invece giudicare, esprimere dei giudizi, esprimere delle sentenze è una cosa completamente opposta. Tra l'altro, diciamo, le spiegazioni andrebbero chieste quando c'è qualche evento concreto che ci interessa direttamente. Sicuramente esistono delle situazioni in cui dobbiamo spiegare le nostre decisioni, i nostri comportamenti. Questo è importante, diciamo, che le persone che ci stanno vicino capiscano perché ci siamo comportati in un modo piuttosto che perché ci siamo comportati in un altro. Abbiamo anche il diritto di chiedere ad altri le spiegazioni dei loro comportamenti, ma chiedere una spiegazione per comprendere è una cosa, giudicare, sparare delle sentenze è un'altra. E poi ci sono delle situazioni in cui non dobbiamo neanche dare delle spiegazioni a nessuno. Quando ci sono delle dimensioni che appartengono solo a noi, perché, diciamo, sono dimensioni personali, ad esempio, che ne so, una scelta di un percorso, di un percorso spirituale o una scelta personale sul tipo di vita, se sposarsi, non sposarsi, fidanzarsi, non fidanzarsi, diciamo, su queste situazioni non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno. E nessuno è quelli che si erogano diritto di dirci, ma avresti dovuto far così, avresti dovuto far cosà, mandagli a cagare, perché, diciamo, non dobbiamo dare spiegazioni sul nostro agire. Le spiegazioni dobbiamo darle a noi stessi, alla nostra coscienza, soprattutto quando c'è qualcosa che non riguarda l'altra persona, perché spesso le persone agiscono per dei preconcetti, quindi noi non dobbiamo dare spiegazioni sulla priorità della nostra vita, sulle scelte prioritarie della nostra vita. Poi ci sono persone che ti dicono, ma perché tu fai così, perché tu fai cosà, come non dobbiamo dare spiegazioni sulle nostre convinzioni, non dobbiamo dare spiegazioni sui nostri valori, le convinzioni e i valori sono nostri e quindi nessuno deve intromettersi dentro. E quindi la cosa fondamentale è che dobbiamo essere consapevoli dei nostri diritti, dobbiamo capire che abbiamo il diritto di non dare spiegazioni se le decisioni e i nostri comportamenti non interferiscono direttamente con l'altra persona. Dobbiamo porre dei limiti e se un'altra persona ci dà consigli e si ringrazia e si dice va bene, ti ringrazio, ma tanto faccio quello che voglio e si taglia corto, si cambia argomento, diciamo così, se poi insistono, non dobbiamo farci rubare la coscienza, insomma, noi dobbiamo passare da un codice etico collettivo a un codice etico personale e non ne rispondiamo soltanto noi davanti a noi stessi. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto in un'unica descrizione. Ciao a tutti!